Oggi celebriamo la memoria del martire del presbitero Massimiliano Maria Colbe, ardente di amore per la Vergine Immacolata, ricco di zelo per le anime e sostenuto da un amore eroico verso il prossimo, pronto a dare anche la vita. Chiediamo la sua intercessione e accogliamo la parola del Signore dal Vangelo di Matteo. In quel tempo, mentre si trovavano insieme in Galilea, Gesù disse ai suoi discepoli Il figlio dell'uomo sta per essere consegnato nelle mani degli uomini e lo uccideranno, ma il terzo giorno risorgerà. Ed essi furono molto rattristati. Quando furono giunti a Cafarnao, quelli che riscuotevano la tassa per il Tempio, si avvicinarono a Pietro e gli dissero, il Signore, il vostro maestro, non paga la tassa? Rispose, sì. Mentre entrava in casa, Gesù lo prevenne dicendo, che cosa ti pare, Simone? I re della terra, da chi riscuotono le tasse e i tributi? Dai propri figli o dagli estranei? Rispose, dagli estranei. E Gesù replicò, quindi i figli sono liberi, ma per evitare di scandalizzarli va al mare, getta l'amo e prendi il primo pesce che viene su. Aprigli la bocca e vi troverai una moneta d'argento. Prendila e consegnala, l'oro per me e per te. Gli ebrei pagavano una tassa per il Tempio e proprio per questo gli esattori di questa tassa domandano ai discepoli. Il vostro maestro non paga la tassa? Perché gli fanno questa domanda? In tante occasioni in realtà Gesù si era mostrato libero dalle tradizioni. Per esempio la regola della purità, delle abluzioni prima di mangiare. Lo avevano accusato di non seguire questa tradizione. Oppure anche con il sabato. Avrebbe potuto guarire tutti i giorni della settimana, eppure tante volte guarisce di sabato, suscitando le critiche dei maestri. Dunque anche sul Tempio avrebbe potuto essere libero dalla tradizione. sul Tempio avrà parole forti quando accuserà i farisei e i capi di aver reso la casa di Dio non una casa di preghiera, ma un covo di ladri. Addirittura sul Tempio arriverà a dire distruggete questo Tempio e io lo restituirò in tre giorni. Dunque da Gesù ci si poteva aspettare tutto, ma per quanto riguarda la tassa del Tempio, Pietro risponde immediatamente. Sì, Gesù paga la tassa. Dunque Gesù regolarmente pagava la tassa. Tutto poteva finire qui. Ma invece Gesù non perde l'occasione per far catechesi, cioè per aiutare i discepoli a scoprire il mistero della sua persona, a scoprire che egli è il figlio di Dio e dunque non perde l'occasione della tassa del Tempio. Gesù proprio previene Pietro e gli fa un ragionamento. Prima però mostrando il modo con cui paga la tassa. Non la paga prendendo i soldi dalla cassa che il gruppo dei dodici aveva. Sappiamo che il cassiere era Giuda, colui che poi lo tradirà. Ma la paga con una moneta d'argento che Pietro trova in bocca a un pesce pescato su ordine di Gesù. Dunque si potrebbe dire che Gesù paga il denaro per la casa del padre con un denaro che il padre gli ha fatto trovare miracolosamente nella bocca di un pesce. Potrebbe sparagonarsi a quel bambino che fa il regalo al papà con i soldi che il papà gli ha fatto arrivare attraverso la mamma. Ecco la catechesi. Gesù paga la tassa al Tempio in questo modo perché lui è il figlio. Quella casa per cui si paga la tassa in realtà è la sua e quindi la paga con un denaro che il padre, il creatore, gli ha fatto trovare. Anzi, lui stesso più avanti spiegherà che lui è il Tempio. Ecco il senso di pagare la tassa in maniera miracolosa. E come ha detto immediatamente prima di questo episodio egli diventerà Tempio attraverso la sua passione. Egli, morto e risorto, è il nuovo Tempio. In questo modo Gesù educa gli apostoli a riconoscerlo come figlio di Dio attraverso una tassa pagata con un denaro miracolosamente trovato. Tale educazione, se riguarda i discepoli, riguarda anche noi in duplice maniera. Innanzitutto siamo invitati a rinnovare la nostra confessione di fede oggi e proclamare, credo Gesù, che tu sei il figlio di Dio. Gesù ha voluto far capire questa profondità della sua persona. Ma c'è anche un'altra maniera con cui Gesù oggi ci educa. dobbiamo riconoscere che noi in Lui siamo figli. Ieri, nella preghiera, abbiamo invocato il Padre in questa maniera. O Padre, fa crescere nei nostri cuori lo spirito di figli adottivi perché possiamo entrare nell'eredità che tu ci hai promesso. Se siamo figli, allora, anche noi dobbiamo pagare le tasse al Tempio, cioè fare le nostre offerte a Dio, non con denaro nostro, ma con ciò che il Padre ci dona. Che cosa vuol dire questo? Certo, non vuol dire che noi dobbiamo andare a trovare i denari sulla bocca dei pesci, ma dobbiamo riconoscere che l'offerta che noi diamo al Padre è l'offerta che il Padre ci ha dato, perché noi non possiamo offrire se non Gesù. La nostra offerta, infatti, è il pane che lo spirito rende presenza reale di Gesù che si offre per noi. In un certo senso, anche noi abbiamo un denaro trovato nella bocca del pesce. Certamente simbolicamente, ma ricordiamo che Gesù ha parlato del segno di Giona e anche Gesù è stato nel vento del pesce, cioè nel sepolcro, per tre giorni. E di lì noi l'abbiamo trovato vivo. Questa è la moneta con cui noi paghiamo il Padre, con questa moneta trovata nel pesce. La nostra preghiera non può essere se non l'Eucaristia, l'offerta al Padre di ciò che il Padre ci ha dato, Gesù. Noi offriamo al Padre il Figlio che Lui ci ha donato. Questa è l'unica preghiera adeguata e sensata. Tutte le altre preghiere che noi possiamo fare, e le possiamo fare, ma devono sgorgare dall'Eucaristia, da questo dono. Solo in Gesù le preghiere e le offerte che possiamo fare hanno senso. Non a caso tutte le nostre preghiere terminano con questa espressione. Per Cristo nostro Signore. È attraverso Gesù che la nostra preghiera sale a Dio. Anche quando introduciamo nella liturgia il Padre nostro, che cosa diciamo? Siamo obbedienti a Te, alla Tua parola, e siamo formati all'insegnamento di Gesù. E allora possiamo dire Padre nostro. La nostra preghiera nasce sempre dall'obbedienza, dall'ascolto. O Signore, donaci il Tuo Spirito Santo, perché comprendiamo che da soli non possiamo innalzarti nessuna preghiera, non possiamo offrirti nessun dono. Solo in Cristo e attraverso Cristo la nostra preghiera sale a Te. Rendici allora fedeli discepoli, perché possiamo divenire in Cristo Gesù figli Tuoi, figli di cui gradisci l'offerta, figli Tuoi. Il Signore vi benedica nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Buona giornata.